Ciao a tutti, Hermine Braunsteiner si unisce al coro delle altre terribili e sadiche guardie femminili dei campi di concentramento, il Tsecock, Maria Mandel e Irma Grise, a ognuna delle quali ho dedicato un intero video. Ma veniamo a lei. Era nata a Vienna nel 1919 da una famiglia numerosa e cattolica. Suo padre era un autista e un macellaio. Lei sognava invece di diventare infermiera, proprio come quella Iena di Irma Grise, ma non riuscì a coronare questo suo desiderio, quindi si adattò insieme a sua sorella a fare la domestica in Inghilterra alle dipendenze di un ingegnere americano. Ma ci restò per poco e appena l'Austria venne annessa alla Germania, lei tornò a casa sua a Vienna e fu proprio il suo padrone di casa che le consigliò di fare domanda come supervisore dei prigionieri nei campi di concentramento. Avrebbe guadagnato molto e non avrebbe mai avuto più problemi economici. Era il 1939 e lei aveva appena 20 anni quando fu chiamata a Ravesbrook con il ruolo di guardia. Lei accettò subito. Nessuna morale, solo soldi. Dopo tre anni di permanenza iniziò ad avere scontri continui con Maria Mandel, altra famosa vipera, a cui però non poteva ribellarsi perché era una sua superiore. Fu per questo che chiese il trasferimento, per allontanarsi da lei e quindi abbandonò Ravesbrook per prendere servizio nel campo di Majdanek, vicino a Lublino, in Polonia, dove presto assunse il ruolo di assistente di reparto. Veniva soprannominata Kobila, che in polacco significa cavalla scalciante. Non era raro infatti che prendessi a calci i prigionieri fino a schiacciarli sotto i suoi pesanti stivali con le borchie chiodate in ferro. Essendo lei la responsabile della selezione dei prigionieri, aveva pieni poteri e lei lo sapeva fin troppo bene e si arrogava il diritto di decidere della vita e della morte dei deportati, che tra l'altro colpiva brutalmente con la sua immancabile frusta confezionata appositamente per lei. Si racconta che acciuffasse per i capelli i poveri bambini destinati a morire e che li spingesse con violenza sui camion diretti verso le camere a gas. Detestava ai bambini, tanto da definirli bocche inutili da sfamare. Un giorno arrivò al campo un prigioniero che aveva nascosto il suo figlio a letto in uno zaino. La donna si insospettì e colpì il fagotto con una frustata così forte che il bambino inevitabilmente scoppiò a piangere per il dolore. L'uomo fu così costretto ad aprire lo zaino e in quel momento il bambino spaventato a morte scappò fuori e corse con tutte le forze che aveva. In un attimo però la donna gli fu addosso, lo strattono con forza, gli sparò alla testa. Ma se provava odio e disprezzo per la vita dei bambini innocenti, si rivelava ancora più malvagia nei confronti delle prigioniere, giovani e molto belle, per cui provava un'infinita invidia. Le prendeva calci e le frustava sangue, mirando precisamente al viso, in particolare agli occhi. Erano fin troppo conosciuti e temuti i suoi scatti di ira e le sue collere selvagge. Un medico francese ricordava tristemente che la Braunsteiner inflisse 25 frustate a una povera giovane russa, la ridusse uno straccio, ma costrinse lui che era un medico a non curarla e a non prestarle alcun soccorso. Nel gennaio del 44 a Ermine Braunsteiner fu ordinato di lasciare Maidanek ormai evacuata e di ritornare a Ravensbrück. Ma l'armata rossa nel maggio del 45 arrivò anche là e a lei non rimase altro che darsi alla fuga. Torno a Vienna ma venne arrestata. Rilasciata dopo meno di un anno, presto finì nuovamente sotto accusa e arrestata di nuovo nell'aprile del 48 per omicidio, infanticidio e maltrattamenti. Ma solo per i crimini commessi a Ravensbrück e non per quelli di Maidanek. Anche stavolta solo dopo un anno e mezzo venne rilasciata. Come gran parte dei criminali nazisti anche lei si mise in fuga, smise la veste di Aguzzina e indossò quella della cittadina esemplare, ricoprendo i più svariati ruoli nella società. Seppellì in un angolo del suo cuore, messo che ce l'avesse, le brutalità commesse, dimenticandole, come se non fossero mai state compiute. Sparì. Ma non sapeva che Simon Wiesenthal, il più grande cacciatore di nazisti, si era ostinata a scovarla a ogni costo? Lei ignara di essere nel mirino di Wiesenthal lavorava tranquillamente in un albergo e fu proprio lì che conobbe un soldato americano, Russell Ryan, col quale intrecciò una relazione. Si sposarono e lei in questo modo ottenne la cittadinanza americana. Intanto al nostro cacciatore di nazisti arrivarono delle importanti segnalazioni da parte di due testimoni sopravvissute alle brutali frustate della Braun Steiner. E una volta accertato che vivesse negli Stati Uniti, Wiesenthal decise di affidarsi alla stampa. Contattò un giornalista del New York Times e gli trasmise tutte le informazioni in suo possesso. Subito si fece avanti una signora che segnalò una donna un po' sospetta che viveva poco distante da lei e che aveva un forte accento tedesco. Ma tutti la conoscevano come la moglie di Russell Ryan. Abitavano nella settantaduesima strada al numero 52. Il giornalista senza perdere tempo il giorno dopo busso a casa loro. Gli aprì una donna bionda robusta dall'espressione severa che senza preamboli gli confessò con la massima serenità di essere Ermine Braun Steiner. Poi incalzata dal giornalista che le chiedeva dei lager in cui aveva prestato servizio abbassò gli occhi e scoppiò a piangere. Tra lacrime e singhiozzi dichiarò al suo intervistatore che sapeva perfettamente che prima o poi qualcuno le avrebbe chiesto di rendere conto del suo passato. Lo fece accomodare il soggiorno e rispose alle domande tra fiumi di lacrime, autocommiserazione e pretese di innocenza, cercando strenuamente di convincerlo che lei fosse solo una vittima perseguitata, per poi concludere con una domanda imbarazzante. Perché date fastidio alla gente 16 anni dopo? Il marito invece all'oscuro di tutto rimase sbigottito, si limitò però a dire che sua moglie fosse la persona più gentile sulla faccia della terra e che fosse innocente e che era stata solo costretta ad eseguire gli ordini. Le rimase accanto per tutta la vita, ma lei intanto non aveva più speranze di cavarsela. Dopo sette anni di una dura battaglia legale, nel 1971 perse la cittadinanza americana e fu la prima criminale di guerra nazista a ricevere l'estradizione. Lei scelse di andare a scontare la sua pena in Germania. Quattro anni dopo, al tribunale di Dusseldorf dovette dare conto di tutte le atrocità che aveva commesso a Maidanek e fu così che venne condannata all'ergastolo per l'omicidio di 80 persone, per favoreggiamento nell'omicidio di 102 prigionieri e per la selezione che portò a morte mille persone. In virtù del suo particolare ruolo e per sua stessa anzione, la sentenza è di diverse entità. La corte condanna l'imputata al carcere a vita. Fu rilasciata, stiamo per concludere, dal carcere nel 1996 a causa di complicazioni dovute al diabete, infatti subì un'amputazione e così finì di scontare i suoi anni in una casa di cura. Suo marito non l'abbandonò mai, le restò vicino fino alla morte, avvenuta nel 1999. Hermine Braunsteiner se ne andò portandosi via un bagaglio pesante fatto di frustate, omicidi, violenze, sopprusi difficili da immaginare. Lei si proclamò fino all'ultimo innocente, si definiva una vittima perseguitata. Il mondo degli uomini, purtroppo anche in questo caso, non ha ottenuto giustizia. Concludo questo video con una sua frase. Ho sofferto abbastanza. In fondo, ho fatto solo il mio dovere. Senza parole. Un carissimo saluto a tutti voi.